Riccardo Maier dipinge evocative opere nebbiose che hanno per protagonisti, persone o architetture divenute simboli di un'epoca, come la chiesa di Sant'Isacqua a San Pietroburgo, che è stata lo scenario di un momento di svolta della Seconda Guerra Mondiale, ripresa da varie angolazioni. La colonia fascista di Cervia, ora ridotta a uno scheletro razionalista. La sagoma di Rudolf Hess, gerarca nazista che è stato l'ultimo prigioniero del carcere di Spandau. Assolutamente originale la tecnica utilizzata. La particolare tonalità di grigio, che allude all'impalpabilità dei ricordi, è ottenuta tramite una sovrapposizione di ceneri e polveri, da quella recuperata nella sua soffitta a quella di carbone, gesso e vetro, simboli concreti del tempo che passa. Gli argomenti dei miei lavori sono fatti di cronaca o avvenimenti storici. Cerco in internet delle immagini, le stampo, le ingrandisco, realizzo degli stencil che poi utilizzo come mascherature, per farci cadere le polveri. Le polveri che utilizzo sono delle miscele di carboni, di ceneri, di metalli, di limature di metalli, ruggini, effetti del vissuto. Ho iniziato a dipingere nel 1997 a novembre, era una giornata nebbiosa e invece ad andare all'università sono andato a Venezia a vedere una mostra di un artista tedesco, Hansen Kieffer, che esponeva Palazzo Correre. Entrando mi sono fermato nello scalone di accesso e ho visto una sua grande tela che rappresentava un uomo disteso sotto un cielo stellato. Ho visitato la mostra da solo e ne sono uscito molto colpito. Le opere sembravano sempre state lì. Uscendo ho capito che l'arte interpreta il tempo del mondo e ce lo ripropone arricchito di nuovi significati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.